Aumento della raccolta differenziata sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano nel mese di agosto. Dai numeri inviati all'ente dal Consorzio Comuni Bacino-Salerno 2 è infatti emerso un sostanzioso aumento del materiale prelevato dagli operatori ad agosto 2018 rispetto a quello ritirato nello stesso mese del 2017. In particolare si è registrato un più 78% per la carta, un più 14% per il vetro, un più 44% per il multimateriale ed un più 13,30% per l'organico. In questi giorni inoltre sono state adottate altre due misure, l'acquisto e la collocazione di fototrappole per potenziare la videosorveglianza nei punti più critici della città e l'utilizzo straordinario di camion ogni mercoledì e venerdì per fronteggiare le emergenze e garantire un servizio di rimozione maggiormente celere ed efficiente.